Dopo il posto sulla pagina ufficiale di BR Sound in cui si annuncia che Festival si prepara a salutare Leverano, la polemica non si placa. In tanti non hanno voglia di rinunciare a uno degli eventi più attesi dell'estate salentina e che nella sua tradizionale settimana ha da sempre impreziosito l'intera comunità per ben 20 anni. Eppure al momento sembra che il destino sia segnato. BR Sound infatti non potrà più trovare spazio a Leverano dopo l'approvazione in consiglio comunale del nuovo regolamento. che prevede la durata massima di tre giorni, con un giorno di proroga a descrizione della Giunta, delle manifestazioni su solo pubblico. Una norma che penalizza un evento che porta migliaia di persone nel nostro paese, con ritorni economici importanti, si legge nella nota dell'opposizione. Noi consiglieri di futuro sostenibile abbiamo cercato durante il consiglio in tutte le maniere di far desistere la maggioranza da questa scelta accelerata. Ma così non è stato perché il regolamento è stato approvato. E adesso, sui social e non solo, continuano le polemiche. Ma soprattutto la battaglia per non rinunciare a questa festa, nata grazie a Maybe Import, l'azienda locale di Maurizio Zecca. È stata infatti indetta per mercoledì 13 marzo alle 18 una manifestazione nel piazzale antistante comune di Leverano, per gridare proprio no a questa decisione. Inoltre, circola online una petizione per salvare birra e sound. Ed è solo l'inizio. Magrado le spiegazioni sulla buonarietà del regolamento che cerca di puntare sulla sicurezza e l'accoglienza, sul preservare ogni cittadino continuando a promuovere al meglio l'intera comunità, Leverano non ci sta e ora più che mai desidera tener stretto uno degli eventi che ha regalato un'etichetta d'onore a questo paese.